Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radio locale. Rissa in pieno centro, domenica sera a Fondi, che ha fatto vivere una serata da incubo per chi intorno alle 22.30 si trovava tra Piazza dei Gasperi e il Castello, nella zona del passeggio, quando un gruppo di stranieri, probabilmente cittadini di nazionalità indiana e pakistana, hanno dato vita ad una rissa che ha visto protagonista una cifra imprecisata di persone, forse anche più di dieci. Una persona è finita in ospedale, cavandosela con una prognosi di cinque giorni, mentre sul posto sono intervenuti sia gli agenti del commissariato che i carabinieri, questi ultimi chiamati a fare luce sulla vicenda, grazie anche al supporto della polizia locale per quanto riguarda l'analisi delle videocamere di sorveglianza. Gaeta in prima linea nel portale sostegno ai territori colpiti il 6 febbraio scorso dal devastante terremoto in Siria e Turchia. La protezione civile La Fenice ha provveduto al confezionamento dei bancali, consegnandoli al deposito allestito dall'ambasciata turca presso l'aeroporto di Fiumicino a Roma. Circa dieci quintali di derrate alimentari a lunga conservazione sono il contributo della generosità dei cittadini di Gaeta che hanno risposto tempestivamente con aiuti concreti alla richiesta avanzata sia dal comune di Gaeta, dall'assessorato alle politiche sociali, in stretta collaborazione con la protezione civile e anche con la Caritas diocesana di Gaeta. Dovrebbe uscire fuori dal territorio del sud pontino il nome del centrodestra che entrerà a far parte dell'amministrazione regionale del Lazio, guida Francesco Rocca. I nomi più chiacchierati sono entrambi di Forza Italia, si parla dell'ex consigliere regionale Pino Simeone che viene ipotizzato come possibile assessore rifiuti, ma si fa anche il nome del neoeletto ed ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano. Per lui si parla o di un posto nell'esecutivo o addirittura di finire a fare il presidente della plenaria alla Pisana, ma al momento sono solo indiscrezioni. Un evento di solidarietà a Terracina a luglio scorso che ha permesso di raccogliere adeguati fondi per acquistare un divaricatore Thompson da donare all'ospedale Dono Svizzero di Formia, in particolar modo a reparto chirurgia generale e urgenza dell'equip del noto dottor Vincenzo Viola. L'evento spettacolo che ogni anno si tiene in provincia di Latina a scopo sociale quest'anno si è tenuto presso il noto locale di Terracina, organizzato come da tradizione della EQ Luxury Events. Attesa per i fuochi di San Giuseppe a Itri, appuntamento che quest'anno vedrà anche l'inclusione sociale al centro della due giorni del 18 e 19 marzo prossimi. Un fuoco in particolar modo, come reso noto dai giorni scorsi dal municipio Itrano, servirà per raccogliere fondi per i giovani del centro diurno, mentre l'appuntamento con la tradizione vedrà una due giorni complessiva, il 18 marzo una sorta di prefesta attendendo il giorno successivo, poi la consuetudine con tradizione cibo tipico con i fuochi di San Giuseppe nelle zone più caratteristiche del centro città. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.